Comentiamo la questione. Sposarsi o non sposarsi non è importante. Mi ricordo la prima volta che ti ho visto. Eravamo a una festa atropea. Avevo 19 anni, tu anche. Tu invece stavi sotto un albero ed eri intento a scrivere mentre ascoltavi una canzone che veniva dal bar sulla spiaggia. E quale canzone era? Comunque è pazzesco. Come tu pensate di riconoscere una persona e questa sparisce. Ma tu non mi conosci così bene. Non fare caso lui stava provando a portarmi a letto e basta. Tua marito è venuto con te? No, no, non avrebbe mai potuto con così poco preavviso. Vi conoscete già voi due? No. Sì. No. Una vita fa ci conoscevamo. Mi chiedo che cosa possono fare due persone solo in una stanza d'albergo quando nessuno le può vedere. Ti prego non cominciare con queste tomate. Perché ti dà fastidio? In generale mi dà fastidio quando mi prendono per il culo. Le cose che diventano serie per me sono già finite. Mi è tornato in mente comunque. Avevi un bellissimo vestito blu a righe. E la canzone? E la canzone. Ah, non mi ricordo. Ecco qua. Eh, non mi ricordo. Non mi ricordo. Grazie a tutti.